Ma sicuramente quello che è successo a Parigi è un fatto molto grave perché poi succede per la seconda volta nell'arco di 2015. Credo che bisogna interrogarsi a questo punto e soprattutto da farsi perché non è sufficiente dire che dobbiamo fare questo o con l'altro. Questi sono un gruppo criminale ben organizzato, questi a differenza di Al-Qaeda hanno voglia di occupare il territorio, non per niente hanno dichiarato il califato e hanno un programma ben preciso. Perciò bisogna agire cercando non con un intervento ma coinvolgere soprattutto i paesi musulmani e le istituzioni islamiche come l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, la Conferenza Islamica che raggruppa tutti i paesi musulmani e che possono dire finalmente e condannare l'ISIS per sradicare totalmente. Perché se non sono, non corrispondono all'Islam quello che fanno, allora bisogna condannare le azioni che questi individui stanno facendo. Perciò bisogna coinvolgere i paesi musulmani che fino ora sono rimasti in silenzio. Non basta mandare una condolianza oggi a Parigi, domani a un altro paese. No, bisogna chiaramente e fermamente condannare, condannare qualsiasi azione che proviene da questi criminali. Sicuramente anche questo è un punto interrogativo, anche perché io da vicino, due giorni fa, i Peshmerga kurdi hanno liberato dopo 15 mesi la città kurda di Yazdi, Shingal, che è stato massacrato, tanto è vero che hanno trovato due fosse comuni di solo donne che sono state stuprate, violentate e uccise. Hanno trovato un arsenale dei armi, armi sofisticatissimi, che allora ci domandiamo chi è che li vende questo. Cioè il fatto che loro possono avere le raffinerie mobili, chi è che li compra il petrolio. Cioè qui i cittadini hanno il diritto sacrosanto di chiedere ai propri governi in Occidente ma chi è dietro tutto questo. Penso che è un fatto molto grave.